Rischiano di essere spostati altrove per motivi di tempistica i primi fondi del PNRR per finanziare la velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma. La notizia diffusa ieri da alcuni organi di stampa nazionale ha trovato terreno fertile nel dibattito politico regionale. Peraltro già dopo poche ore il presidente Marco Marsilio aveva assicurato che i 600 milioni che servono per fare partire i primi due lotti di lavori verranno reperiti altrove. Dunque tutto risolto, non proprio. Sentiamo l'onorevole Dem, Luciano D'Alfonso. Noi avevamo due salvadanai, uno il PNRR e un altro FSC. Purtroppo abbiamo perso un salvadanaio e adesso dobbiamo usare l'altro salvadanaio destinato ai popoli delle nostre comunità, dei nostri territori e dobbiamo convertire il salvadanaio coesione e sviluppo che doveva colpire i problemi che rimanevano e dobbiamo utilizzare questo salvadanaio per la ferroviarizzazione. Francamente siamo davanti ad una fotografia nitida che dice che si sono fatti errori. Tra questi errori quello gigantesco riguarda la qualità della progettazione ancora d'Alfonso. Non si può progettare da Google a distanza, non si può progettare con lo sbadiglio, si deve progettare adesivamente sui territori. L'ho richiesto esplicitamente, mi ricordo una battuta, dissi al valente ingegner Macello, perché si chiama così, di mettere in discussione la vocazione del suo cognome e di garantire adeguatezza. È evidente che la progettazione è stata scadente, recuperata negli scantinati. Una progettazione di qualità avrebbe determinato il pieno consenso dei territori, delle comunità e delle istituzioni e avrebbe anche determinato il pieno, veloce utilizzo anche delle risorse del PNRR. Questa invece è la versione e la visione dell'Onorevole di Fratelli d'Italia, Guerrino Testa, il quale parte dall'appalto che RFI intende fare partire tra una ventina di giorni. Innanzitutto dobbiamo aspettare il 30 giugno, quando andranno in gara, in appalto, i primi due lotti, che sono quelli fondamentali per far partire un'opera, ritengo, strategica, un'opera che non ha mai visto in Abruzzo far precipitare tanti miliardi per un'infrastruttura fondamentale e nuova e che ci farà mettere al pari con le nazioni più progredite. E quindi dopo bisogna continuare a lavorare, come si sta facendo con il governo, con la regione affinché possano arrivare tutti gli altri, anzi debbano arrivare tutti gli altri fondi per terminare i quattro lotti. Come dire, è una vicenda che è solo agli inizi, visto che l'opera è molto complessa e anche costosa, l'investimento vale oltre 6 miliardi ed è lunga da realizzare per il completamento dei quattro lotti, si parla del 2030. Infine il progetto ha incontrato molte resistenze per il forte impatto che avrebbe sui territori interessati. È ovvio che quando un'opera è così impattante e così importante, disagi li porta, è fuori di dubbio. Però i disagi sono anche oggetto di ristoro. Pensiamo al comune di Montesilvano, di Manopello, che prenderà, introiterà circa 8 milioni per fare delle opere importanti sul proprio territorio. Quindi io capisco la preoccupazione, capisco il dover spostare aziende, dover spostare alcune abitazioni, ma ci sarà il ristoro perché nessuno venga lasciato da solo.